Le cinque migliori barca a vela che acquisterei adesso. Andiamo a vederle? Andiamo a vederle. Barche a vela da acquistare. Un altro viaggio verso il mare mi porta alla ricerca della barca perfetta e questa volta sarete con me. E se non avete sfondato nelle criptovalute o se non siete un luminare primario dello Spalanzani, e se questa mattina non andrete in garage a tirare fuori la vostra Lamborghini Urus per raggiungere la prima seduta della settimana di allenamento a Milanello, allora probabilmente avete il mio budget. Così andiamo alla ricerca di quella che sarebbe la mia o la vostra barca ideale. Conosceremo cinque barche, una delle quali sarà il mio o il vostro potenziale acquisto. La barca quindi dovrà essere sicura, comoda e mi dovrà consentire di arrivare molto lontano. Jeannou Son Odyssey 30 Oh, ti sei deciso allora? E finalmente comprerai la barca a vela dei tuoi sogni? Beh, anche se non vuoi sforare quella fatidica soglia di 30.000 euro, sappi che è possibile trovare qualcosa di veramente ottimo. Certo non ho intenzioni di ruinare la tua economia domestica o la tua tranquillità familiare, per questo oggi ti presenterò delle barche a vela degli anni 80-90, non proprio di primo pelo. Ma d'altra parte anche tu non lo sei, dai. E non dirmi che ogni tanto non ti senti ancora addosso gli sguardi di qualche bella signora. Così ti ho portato in questo stupendo marina per presentarti questa meraviglia. Jeannou Son Odyssey 30 Credo che tu sia già al corrente del fatto che 30 piedi non sono nemmeno 9 metri. Infatti questa barca non è nemmeno 9 metri. Quindi questa è ancora una tante e avere una tante in Italia, almeno fino ad oggi, ti dà dei grandissimi vantaggi. Come quelli che non dovrai avere per forza subito la patente, non sarai costretto a immatricolare questa barca per poi piazzarci sopra una bandiera polaca come fa l'80% degli armatori che non la vogliono dichiarare in Italia, e per l'agenzia delle entrate non sarà molto diverso che avere un canotto gonfiabile col quale giocare con i tuoi bimbi al lago la domenica mattina. Il fatto è che l'Odyssey 30 non è proprio un canotto gonfiabile col quale giocare. E a fronte di tutto questo adesso guarderemo che tipo di forma possono prendere i tuoi risparmi. Fai attenzione, qualche avvertimento però te lo voglio dare. Appena farai questo passo si manifesteranno una serie di problemi e di nemici. Per la percezione delle persone non sarai più una persona comune, ma sarai improvvisamente il ricco, privilegiato, spregiudicato, che vive alle spalle del prossimo. E poco importa che probabilmente la maggior parte di loro spende i propri soldi in cose molto più futili. E magari ha appena speso gli stessi soldi che hai speso tu per l'acquisto di un'utilitaria elettrica che userà come seconda macchina perché è green. Ma te questo importerà poco perché mentre lui è concentrato a salvare il mondo, ti chiederai ogni mattina che entrerai dal tambuccio, sentendo l'odore di pelle e del legno e il rumore delle sartie, perché questo passo non l'hai fatto vent'anni prima. Ma veniamo a ciò che veramente ci interessa. Questa Odyssey 30 è stata realizzata nel 1992. È lunga, 8,98 m ed è larga 3,30 m. Ospita 5 persone comodamente. Come vedi è molto rifinita, c'ha il tavolo da carteggio e appena entri sulla sinistra trovi una bellissima cucina ad angolo. E sotto la cucina basculante anche un piccolo forno. Ma la cosa che sapete a me piace molto è il fatto di avere un bagno completamente distaccato dal resto della barca. Una bella cucetta di poppa a due piazze che solitamente si usa per gli ospiti, la cucetta di prua amatoriale, una bellissima dinette centrale e un tavolo completamente abbattibile. Nello specifico questa barca è davvero messa troppo bene e l'armatore per lei vuole qualcosa in più rispetto al mio budget. Ma vi do un consiglio. Se vi presentate con la vera intenzione di comprare, con l'assegno in tasca per intenderci, allora avrete un margine di contrattazione molto più ampio di quello che vi aspettate. Tenete bene a mente però che dal vostro budget dovrete tenere un margine per la perizia dello scafo e per un controllo accurato di tutta la barca. E anche se si presenta molto bene stiamo comunque sempre parlando di una barca che ha compiuto 32 anni e può nascondere tranquillamente dei vizi occulti. Mi raccomando. Allora niente male eh? Se rimanete dentro gli anni 80-90 vi assicuro che ci sono dei sogni galleggianti. Bene tu, Oceanis 350. Cambiamo marina e andiamo a vedere l'Oceanis. Il nostro budget rimane sempre quello. E anche la lunghezza sembra non cambiare perché passiamo da 29 piedi a 35 ma vi assicuro che un metro e 30 centimetri in più in barca sono uno spazio infinito. Infatti qua possiamo configurare questa barca a due o a tre cabine e possiamo avere o 5 o 6 posti letto. E anche se la misura contenuta di 10 metri e 30 centimetri concede un pozzetto piuttosto piccolo, ecco passiamo al timone a ruota. Teniamo presente che le barche che vi sto facendo vedere oggi solitamente montano dei motori Volvo Penta da 15 a 30 cavalli. A fronte di questo sappiamo che hanno un regime di potenza che ci consente di poterle portare anche senza patente. E non è poco. Detto questo comunque non posso sottrarmi da darvi il consiglio più sereno del mondo. Di fare la patente in ogni caso vi darà le competenze necessarie per iniziare anche la navigazione sotto costa. Ovviamente vi ho fatto una promessa ovvero quella di non sforare da quella cifra che costringerebbe vostra moglie a farvi dormire sul divano per almeno sei mesi. Per questo l'oceanis che vi sto facendo vedere è una barca che è stata costruita dagli anni 80 agli anni 90. Ma vi assicuro che la bambina non dimostra i suoi anni. Ormai state diventando davvero in tanti a seguirmi e conoscete perfettamente quali sono i miei gusti in senso di barca. E ve ne voglio proprio dire una. Appena prima di visitare questo bellissimo oceanis per gioco ho chiesto all'intelligenza artificiale chi fosse Giorgio il mare. Beh chiamatemi anche boomer ma la risposta mi ha sconvolto. Infatti mi ha descritto molto più dettagliatamente di quanto avrei fatto io stesso. Beh se avete voglia di farlo potete farlo anche voi. L'intelligenza artificiale mi definisce come uno simpatico youtuber e sul simpatico non lo so magari mi vengono anche dei dubbi che ha un seguito di alcune migliaia di persone che lo seguono per i suoi contenuti popolari ma anche competenti e diretti. Ecco quello che mi ha più colpito di questa descrizione la parte dell'intelligenza artificiale è il fatto che abbia usato il termine popolare ed è proprio quello che vorrei che voi intendeste. Infatti il mio intento è quello di sdoganare quella retorica che ci vuole diversi. Ovvero se compri un camper di 30.000 euro magari un Iveca o del 98 allora sei una persona comune normale mentre invece se compri una barca a vela del 1980 di 30.000 euro sei una persona sofisticata e soprattutto privilegiata. Ecco non è così non c'è nessunissima differenza vi assicuro che in Francia questo si sente molto meno che in Italia forse perché cantieri come questi tra gli anni 80 e gli anni 90 hanno deciso di rendere la barca a vela qualcosa di davvero fluibile e popolare per tutti. Ma sì certo per questa barca di 9 metri dovete prendere un posto barca pagare luce corrente acqua per tutto l'anno 3 fino a 4.500 euro per un anno di stazionamento eppure non sapete che al mio migliore amico con la sua roulotte due assi in un campeggio per tutto l'anno al camping cisano sul lago di Garda quest'anno hanno chiesto 5.500 euro. E nonostante ci sia una grande differenza ovvero che con quella roulotte stanziale lui non potrà fare quello che noi potremmo fare con questa barca di 9 metri perché è assolutamente vero che l'Oceanis 350 è stata costruita per piccole navigazioni costiere ma basta che digitiate il suo nome su google per vedere le imprese che sono state fatte con questa barca e quante volte è stata in grado di percorrere la lunghissima regata oceanica. Con lei molti armatori si sono fatti canarie caraibi caraibi canarie senza alcuna modifica strutturale alla barca. Grand Soleil 34 Voi già lo sapete che in questa mia playlist in questa mia rubrica scelgo sempre una barca della quale possa farvi sentire il rumore del vento sulle vele. Non a caso definita la Ferrari del mare progettata dal famoso architetto navale Fino Concu molto conosciuto per aver creato barche estremamente performanti e allo stesso tempo adatte alla crociera. Il Gran Soleil 34 è il perfetto esempio di questa filosofia una barca veloce ma sicura e confortevole anche per la famiglia. Il suo progetto è esattamente la mia stessa età e alcuni intrepidi armatori l'hanno anche scelta per affrontare l'Atlantico con grandissimi successi. Hunter 33 E ormai sapete che in questa mia rubrica non può mancare assolutamente una barca americana. Come è stato per la Catalina 250 ora vi faccio vedere un'altra barca che viene dalla Florida. È una barca di soli 10 metri. È stata progettata e costruita tra gli anni 70 e gli anni 80 e anche se è molto americana come concetto quindi tra le sue caratteristiche principali ci sono l'affidabilità e soprattutto la robustezza c'è qualcosa in lei di molto italiano. Infatti il suo progettista era Cherubini per l'esattezza John Cherubini un ingegnere italo americano ed è forse per questo che il suo design interno ed esterno riportano molto alle accattivanti linee europee. È come se Cherubini fosse riuscito ad unire la forza e l'affidabilità delle barche americane con il design accattivante e magnifico delle linee europee e secondo me un po' ci è riuscito. In seguito la sua fama è arrivata anche da noi. Infatti molti armatori del Regno Unito, dei Paesi Bassi, della Francia e dell'Italia hanno deciso di acquistare un Hunter 33. Per questo è molto probabile trovare questa barca nel mercato dell'usato europeo e trattandosi di una barca molto lussuosa ma pur sempre di 40 o 50 anni la si può trovare a prezzi ampiamente sotto quelli che sono oggi il mio budget. Come avete visto nelle barche precedenti il design interno era per tutte un po' lo stesso. In questo caso invece gli interni appaiono molto più resistenti. È stato usato un legno massello e massiccio di provenienza del Nord America. A fronte di questo nonostante sia una barca di soli 10 metri il suo peso supera le 5 tonnellate 5,5 tonnellate ed è un peso abbastanza importante per una barca di queste dimensioni. Non è rivestita di pelli particolari o intarsi specifici. Però il lusso appare lo stesso. Saltano subito agli occhi i colori accesi e chi ha avuto questa barca sostiene che riesce ad essere luminosa in ogni situazione. Vi assicuro che in barca questa caratteristica non è assolutamente da sottovalutare. Dufour 31. Ed eccoci arrivati alla star del nostro viaggio. Tra le migliori barche a vera sotto i 30.000 euro signori e signori la regina del rapporto qualità prezzo è il Dufour 31. E perché questo Dufour 31 è la nostra numero uno? È semplice. È una barca che riesce a mettere d'accordo sia il marinaio da weekend che il crocevista più esperto. Con quasi 10 metri di lunghezza, un baglio di 3,2 metri, offre tutto lo spazio che serve per una famiglia di 5 persone proprio come la mia. E tutto questo senza mai sentirsi stretti. Il Dufour è un classico. Gli interni? Belli e ben presentati. Sono salito a bordo di una barca di un mio amico che faceva il fisioterapista per una squadra di serie A di calcio, ma sì ve lo dico, la Sampdoria. E vi assicuro che ho provato delle sensazioni fantastiche. A bordo di quel Dufour non avevo potuto fare altro che notare che quel quadrato sembrava più un salone, che sembrava invitarti a rimanere ore, a chiacchierare o a bere qualcosa con i tuoi amici. Lo so che mi prenderete per pazzo ma aveva una cucina che non faceva rimpiangere assolutamente quella cucina che avete a casa. Ogni dettaglio era progettato per rendere la vita a bordo comoda e rilassante, perfetta per chi vuole godersi la vita fino in fondo e soprattutto il mare senza pensieri. Infatti la forza del Dufour 31 è che non è solo una bellezza da salotto, ma questa barca sa anche navigare. Con una superficie velica generosa e un design pensato per la stabilità, il Dufour 31 offre prestazioni sorprendenti sia con venti leggeri che con mare formato. E non troverete l'armatore che vi dice è troppo orziera, strapoggia, perché questa barca tiene la sua rotta come la deve tenere una barca a vela. Ecco perché questa barca per me è la numero uno.